Adesso, mi piacerebbe fare il primo esercizio che abbiamo fatto che di qua continuiamo aprendo lo che sarebbe la parte di sopra. Ok, adesso applicheremo la prima dissociazione che abbiamo provato. Esatto. Benissimo, vediamo se ti capisco. Quindi vado qua, vado avanti, fino a qua è lo stesso, soltanto di qua che io continuo a ruotare con il mio busto e qua ti cambio la sequenza, è come che di qua faccio. Esatto, adesso io sto facendo un'altra cosa, come se fosse un mezzo giro, faccio avanti laterale e poi all'indietro. Lo che io sento è che tu quando mi comandi questo, io lo faccio vedere di fronte, faccio avanti dopo questa saccada, la saccada è con la sinistra, perché noi facciamo tutto da caso. Andiamo al laterale, pivot sulla gamba destra, la prima saccada quando lui si traverta è con la sinistra, poi qui quello che sento io è che tu mi fai fare avanti, pivot, laterale, poi mi fai una pressione per andare all'indietro, però quello che sento io è che quando tu stai in questa posizione ruoti le spalle e le spalle ti portano a girare il bacino. Io faccio tutto questo, mi porto il bacino per dopo andare, diciamo. Ok, quindi è esattamente il primo esercizio che abbiamo fatto, busto, bacino, esatto. Però in questo caso non è che fai busto, bacino, busto, bacino, sennò che continui. Voglio mettere la camera, che si vede le gambe e il corpo, così loro si rendono conto lo che stiamo facendo adesso. Io vado laterale, sempre senza peso, continuo qua, io di qua vado avanti, ma se vi rendete conto di qua, continuo a ruotare così lei capisce questo passo. Perché non lo fai vedere anche dal tetto, tetto del corpo, come quella funziona qua? Piano piano piano, andremo a fare tutto, amore. Adesso, non lo so se vi rendete conto, io quando faccio questo movimento, se io di qua soltanto faccio un po' di pivot e vado indietro, perché lo sto facendo in blocco, faccio la prima sequenza. Capito. Invece di qua, io vado al laterale, vado con la mia gamba sinistra, vado in avanti e adesso continuo a ruotare con il mio lato destro, così dopo di qua continuo con questa secuencia. Perfetto. Ti piace? Moltissimo. Metto tutto il corpo. E così, la prossima settimana faremo vedere tutto questo tipo di disociazione, della parte di sopra, faccio il numero di giro e faremo vedere le altre secuenze. Bene, ci vediamo la prossima settimana. Grazie. Una volta in avanti. Grazie a tutti.